Fantastico! Grazie a Fabio Gallo che è stato il nostro ufficio stampa per questo disco, che è Piovra, che è stato promosso in radio, nelle radio indipendenti per tre mesi. Abbiamo girato nel nord Italia, praticamente Piemonte, Lombardia, abbiamo fatto un po' di Emilia, siamo scesi nel Lazio, in Campania. Siamo anche arrivati sul palco, sul second stage da Nick and Jamming Festival, sempre grazie a Piovra. È un pezzo che funzionava, in radio è andato bene, facciamo anche il video. Beh, Piovra parla di un ragazzo che non crede più nell'amore, da qui il testo che inizia proprio dice Strapami il cuore dal petto, non ho più bisogno d'affetto, l'amore perfetto, dov'è? Strapami il cuore dal petto, non ho più bisogno d'affetto, l'amore perfetto dov'è? E continua con questo ragazzo che non crede più nell'amore ma si sfoga, sfoga solamente il proprio istinto sessuale, portando i ragazzi in hotel, bevendo, ugracandosi e finendo a farsi mordere braccia, a farsi graffiare, eccetera eccetera. Da questa idea, che poi è il testo, nasce il video. Non possiamo dire che siamo fermi, perché comunque stiamo lavorando su pezzi nuovi, abbiamo l'idea di continuare, di non lasciare comunque passare troppo tempo. Vogliamo fare un disco nuovo. Siamo già a buon punto, quindi stiamo già lavorando sull'arrangiamento di nuovi pezzi. Non svelerò il nome dell'album perché ce lo teniamo ancora per noi. Abbiamo voglia di fare cose nuove, sempre sulla stessa linea, però è un periodo in cui sforniamo pezzi su pezzi. Ci stiamo facendo consigliare da persone, per esempio sul campo dell'elettronica. Stiamo cercando di fare le cose per bene. Quindi a dicembre, fine novembre, inizio dicembre, cercheremo di uscire con il singolo del disco, che poi uscirà inizio anno nuovo, e darà via un bel po' di dato. Come ho detto prima, i Venus sono una squadra che funziona, ma senza comunque la gente che poi viene ai concerti, che si prende bene, i cosiddetti fan, noi non saremo niente, ma come penso nessun gruppo. Il nostro stimolo, la voglia di andare avanti ce la danno proprio questi ragazzi, questi personaggi che vengono ai nostri concerti a far casino. Poi spero che il prossimo album vi piaccia veramente un fracco. Un grazie veramente speciale a tutte le persone che ci seguono, che ascoltano i nostri pezzi, che hanno comprato il nostro disco, che hanno comprato le nostre magliette, che ci danno la voglia di continuare. Questo è veramente un grazie a tutti voi. Ciao. Grazie a tutti.